Michelle? Che è? Dov'è la mia sorpresina? Quale sorpresina? Quella che era lì dentro dov'è? Ah, ma l'ho dato al bambino di Simona che ha 5 anni. E che cos'era? Sentiamo. Un pupazzetto di quelli. Sì, ma un Tyrannosaurus o un Velociraptor? Non me ne intendo di animali preistorici. Non è difficile. Tipo questo, tipo questo. Pensaci. Tipo questo, tipo questo. Guardali bene. Sarà stato come questo, un pochino più grande. Il Velociraptor? Due mesi che aspettavo, due mesi. Avevo finito la collezione, brava. Complimenti, brava. Adesso vedo la tua amica e devo far ridare, veloce. Ma stai scherzando? È un bambino di 5 anni, ma non ci penso nemmeno a chiamarla per una stupidaggine. Non è una stupidaggine, è uno stegosauro è una stupidaggine. Un triceratopo che ne ho 4 è una stupidaggine. No! Il Velociraptor che avevo finito la collezione era due mesi che aspettavo, porca miseria!